Questo sarà un grande episodio, le ultime quattro partite di Serie A Se ne vinciamo tutte e quattro e il Milan ne pareggia una o ne perde una, vinciamo il campionato L'episodio più importante! Sono motivatissimo a vincerle tutte facendo un sacco di gol Quindi se faccio un sacco di gol non chiedetemi Ma accetto in modalità esordiente Oh non mi fanno passare in difesa Ma aspetta un attimo! Sassone prende un pallone, incredibile Sassone no! Vai trap, trap! E allora qua! Ma come? Ma stavo andando in avanti, ma dai non puoi farmi queste cose Esce Exit, ma dai! No, 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 sì, sì! Amaury, carica al destro Amaury, ribalza il pallone Palo, ma non ci credo! Via, 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 no, 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 no Valdez, Valdez, no, 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 paralo! No, è sull'esterno, porca, porca! Amaury, 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 Amaury! Ah no, no, no! Ha perso il campionato! Torino-Palma, sono tutte partite inutili ormai E sbala, mette per Exit, Exit, Exit! Parata! Exit, si trova il pallone! 1-0 del Torino 1-1 Mendez Exit! E finisce il primo tempo su punti giù di 1-1 Exit in contropiede, Exit! Piazzatissimo! Che palla! Cassano! Cassano! Cassano la mette in mezzo per Galloppa! Troppo in alto! Troppo! Salva tutto! Sbalza! E finisce una partita! Una partita! Ce ne manca anche le due carta! Capiti? Sì! Se il Milan perde la prossima, cioè l'ultima partita Vinciamo il campionato! No! Andiamo allo scontro diretto! Comunque, avete visto il bug? Era 86! Come fa ad andare 88? Da quando danno due punti? Parma-Genoa! Ha qua la crossa in mezzo per la... Piede! No! Ma come la parata? Io ci credo! Piede-Piede la rimette in mezzo! Marchionni con il pallone! Marchionni! Marchionni con il sinistro! Marchionni! Non ci arriva Exit! Via, vieni! Crossa! Exit! Non ci arriva Exit! 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 Tira Exit! Exit! Tira! A qua! Non ci credo che parata! Non è messo per Exit! 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 Tira Exit! No! Exit! Ma dai! Exit! Ma come fa a pararle tutte? Exit! Exit! 1-0! 1-1! Sempre così mi fa un gol! Veloci pur mi ha fatto questo! Fini del primo tempo su .gd! 1-1! Marchionni! La pari Marchionni! Marchionni! 2-2! Parolo! 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 Non ci credo! Vai di testa! Di testa! Di testa! E' finito il campionato! Cioè ho perso il campionato! Ormai Parma Livorno è inutile! Mi dispiace! Mi sono impegnato molto a fare questa serie e poi abbiamo perso! E siamo arrivati i secondi! Ma neanche i secondi! Comunque adesso farò velocemente, metterò solamente i gol in questa partita! Ma che cavolo di gol hanno fatto! Via Vieni! Parità! Exit! 2-1! Galloppa! No! Incrocio! Exit! 2-1! 3-1! Via Vieni! Crossa in mezzo! Ed è gol! Parolo! Fine primo tempo sul punteggio di 4-1! Contropiede del Livorno! Gol! Parolo! Crossa! Cassano! OLE! NINIS! 7-2! E qua è calcio spettacolo! Tutti i gol che dovevo fare li ho fatti adesso! Ma dai! Cassano! 8-2! Ma l'ha saltato! Non ci credo che cosa ha fatto! NINIS! OLE! 9-2! Devo finirlo bene il campionato! E finisce la partita 9-2! Per chiudere così anche l'episodio e la stagione! Nel prossimo episodio faremo la finale di Champions! E quindi grazie a tutti per avermi visto! Io sono XTB777! Non ce l'ho fatta a vincere il campionato! Ma chi se ne frega! Ciao a tutti!